Non si placano le proteste degli studenti della facoltà di giurisprudenza per la possibile introduzione del meccanismo della media ponderata per il calcolo finale del voto di laurea. Una questione che mette in allarme i laureandi che in tal modo rischierebbero un drastico arrotondamento e in difetto del proprio voto finale. Infatti questa mattina gli studenti insieme ai rappresentanti di facoltà hanno organizzato un bacchetto di raccolta firme per protestare contro l'introduzione del sistema della media ponderata. Nonostante è già applicata nella maggior parte delle facoltà e guardata con forte scetticismo dagli studenti di giurisprudenza per il fatto di essere associata ad un numero troppo esigue di punti di laurea che penalizzerebbe chi non ha una media troppo alta. Questa mattina avete organizzato un banchetto di raccolta firme per protestare contro l'introduzione del sistema della media ponderata che secondo voi rischierebbe di penalizzare chi non ha una media troppo alta? Certo, diciamo che la penalizzazione riguarderà circa il 99% degli studenti, infatti è una situazione veramente incresciosa perché comunque una facoltà di giurisprudenza dove comunque si applica il diritto ci danno in corso d'opera, la gente comunque mancano veramente due o tre materie per finire, un'applicazione di una media ponderata che veramente penalizza tutti. Quindi proprio ma calando i voti di laurea da due a tre punti, chi ovviamente ha una media più bassina ma comunque anche a 5-6 molte altre persone, quindi veramente una cosa indecorosa. Ma comunque l'introduzione della media ponderata è già presente in molte altre facoltà? Sì, è presente soltanto che da noi eravamo riusciti, grazie comunque all'ausilio di tutti i consiglieri, a bloccare la media ponderata l'anno scorso e lo stesso preside aveva dato delle garanzie circa la non applicazione, infatti c'è anche un verbale di facoltà che garantisce che comunque l'applicazione non era immediata solo che ormai la compensa è passata all'Ateneo, quindi passando all'Ateneo non decide più la facoltà e quindi purtroppo la media ponderata dovrà essere in vigore. Ma almeno infatti la nostra protesta servirà per dire ok, entra in vigore la media ponderata ma almeno entra con i correttivi. Già si sa da quando dovrebbe essere attualizzata? Sì, allora l'attualizzazione dovrebbe essere da giugno, cioè da giugno in poi quindi per le nuove sessioni di laurea dovrà entrare in vigore la media ponderata per tutti. Noi ci battiamo appunto sull'effetto retroattivo perché non è giusto che gente comunque che hanno studiato veramente 5 anni per laurearsi in tempo devono essere così deficitate da questa situazione.